rieccoci quindi qui su felucia senza più l'audio che gracchia da quanto mi dicono adesso nella chat e quindi ringrazio ender nick e ringrazio fra morro e tutti gli altri che mi hanno dato un feedback siamo di nuovo qui quindi con questa veste dicevo molto sadomaso pronti a prendere una malattia sul pianeta credo con più virus di tutta la galassia lontana lontana e se il microfono non stride più possiamo andare con la repulsione della forza tieni premuto lt e b per allontanare i nemici con una potente onda d'urto quella che interferiva con il microfono evidentemente li percepisco la forza scorre potente in loro ma più in me e qui anche c'è un'abilità di star killer nel fermare quelli che stanno arrivando i felusiani sembrano più organizzati e più potenti di quanto indicato nei registri imperiali questa opera di un jedi qui lascia intendere che i felusiani siano sensibili alla forza ma in qualche modo siano addistrati o potenziati da un jedi che noi sappiamo essere shatty che come dicevo prima per l'appunto nel legends non si decidevano come far morire sta povera cristiana e moriva in svariati modi cioè voi leggete nel legends varie opere che erano in continuity e ognuna dava una morte diversa a shatty e quindi non c'era una consapevolezza come morta sapevamo che moriva ma non come non quando tipo io adesso che sto morendo quindi facciamo una repulsione finalmente poi hanno messo diciamo una pietra sopra nel canon dicendoci è morte in questo modo però un video shatty mille modi per morire io negli inside me lo preparo lo voglio fare a una creatura perché ovviamente qui la flora la fauna c'è ostile c'è nemica pianeta felusia che è ricordato come il pianeta bellissimo se non fosse per alcune creature un po' grandi già affrontate in nice all the order public ovvero i rancor e qui rincontreremo ma fatti strada nella giungla di funghi holocron holocron quindi potenziamento holocron sit holocron g di due tra l'altro quindi vediamo che bonus ci daranno sono curioso e poi questa foresta questo mondo che effettivamente a differenza di kashik è molto più letale più tossico perché sono funghi come dice qui quindi funghi che potrebbero essere assai velenosi e i funghi giganti velenosi sono il top per la salute mi raccomando attenti a non mangiarli io fossi stato in star killer mi sarei coperto la bocca anche qui tra l'altro non solo sul pianeta precedente quello di scarica che qualcuno mi ha chiesto poi nei commenti su youtube se il pianeta discarica visto nello scorso episodio vero raxus prime fosse poi quello di dartmole no raxus prime nel canon c'è raxus secondus secundus che è la capitale dei separatisti la vediamo anche in the bad batch mentre lotto minor e dove finisce null il pianeta discarica che poi canonicamente sarebbe se vogliamo bracca quello che diamo in jedi fallen order allora repulsione mi piace molto combattere questi no per niente proprio li sto odiando perché riescono a parare molti attacchi a andare di di contrasto e sono fastidiosi però io non ho più la forza star killer ha finito la forza magari se c'è un potenziamento aumentiamo quella vedete va molto di parata è fastidioso mi rompe le combo mi rompe gli attacchi meglio scossarli torturarli in questo modo brutale l'olocron è sopra sono sopra gli olocron ma qui sotto credo che si possa andare perché la missione dice di salire credo io non vorrei ora buttarmi giù e come sempre perché quando lo faccio per andare a scoprire poi ci crepo ma ti stiamo mi sembra tutto molto solido ma in questi giochi anche qui l'olocron sit in questi giochi vecchi memora ad esempio di elo che ha fatto elo 2 19 anni ragazzi quindi elo 1 21 e sto invecchiando mi rendo conto dei giochi che sto invecchiando che botta di culo ero già morto mi ero già visto morto io le cadute sapete che non siamo molto compagni e invece ce l'ha fatta bravo star killer bravo complimenti per l'equilibrio questi devo stare attento e devo lanciarli perché sono praticamente delle granate a forma di fiore la cosa più stronza che ci sia non regalate questi fiori a nessuno se non al vostro nemico a quelli si al vostro nemico regalate gli uno di questi un bel mazzo di questi fiori ci vuole tanto per raccoglierli parecchi muscoli per portarli perché immagino che abbiano un certo peso però sia il vostro nemico regalate gli che di sicuro gli fanno piacere arrivate con un bel mazzo dicendogli guarda questo un segno un gesto di pace dei fiori di feluccia magari un trekker a uno amante di star trek dei fiori di feluccia e il fulmine di forza quasi quasi di potenzi appena posso anche quelli molto fighi e li sto usando un gran tanto mi diverto mi diverto tantissimo già ve lo dicevo aumento di livello a prenderle giusto già ve lo dicevo settimana scorsa due settimane forma è passato un po di tempo sì perché prima c'era c'era il ponte di halloween poi mi sono preso io un virus felusiano neanche arrivando qui soltanto per farvi vedere il pianeta me lo son preso sono rimasto letto due giorni stavo malissimo attenti ragazzi che sta girando sto virus felusiano e quindi la diretta è saltata l'abbiamo recuperata oggi ma venerdì faremo ne faremo un'altra per recuperare le due perse e questo mi ha un po rotto quindi se ne vada voli una sorta di fiore petardo scrive enderniche da regalare i nemici esattamente ai nemici e agli olocron perduti che vado a recuperare no lo sapevo però mi salvo mi salvo devo rifare tutto da capo in questa specie di labirinto salendo ma mi sono salvato ecco questo è un pianeta che non è punitivo perché l'altro quello discarica l'accadevi rimorto almeno qui ho avuto modo di salvarmi di provarci quindi un olocron e scusi torno subito prima prendo l'olocron 10.000 punti forza ottenuti che dispenderemo sicuramente bene l'avevo preso lui tra l'altro però ce l'ha fatta in qualche modo a difendersi bravo star killer però è un po suicida anche adesso mi ha fatto ha slittato volontariamente verso il burrone quando teoricamente avrebbe dovuto attaccare questo insolente se ne vada via la prego lo vedo l'olocron è lì ma come lo raggiungo senza cadere no perché il punto di domanda è sempre quello non è tanto come raggiungerlo che ho una mezza idea ma senza cadere giù la cosa più importante senza morire perché cadere si può se poi lo rifaccio da capo va bene mi incazzo un po come sapete mi girano a continuare a salire scendere però giustamente non muoio mi girano di più se muoio quindi da qui teoricamente con una spinta lo raggiungo non ha fatto la spinta mi faccia la spinta star killer non mi faccia arrabbiare è lunedì tra l'altro quindi lunedì siamo tutti un po più agitati e vorrei giocare tranquillo vorrei rilassarmi vorrei godermi feluscia che alla cui sono arrivato tra l'altro quindi andiamo di là un bel giro girotondo casca al mondo casca la terra tutti super terra è caduto poi alla fine giustamente tutte le cose che salgono legge di newton prima o poi tornano anche giù e lui tornato giù piaccicandosi al suolo dai coraggio killer star killer l'uomo dai mille nomi poi vedremo effettivamente perché mi avete anche chiesto chi è il jedi che si vedeva all'inizio su cascic era il suo maestro possibile no lo vedremo qui non lo hanno detto per un motivo che poi capiremo meglio altra cosa molti mi chiedono perché alcune sequenze sono state tagliate dal gioco non sono tagliate ad esempio il boss secondari come che si può dire i mini boss prima di casdamparatus non erano previsti però vi ricordo che il gioco old gen era troppo breve quindi li hanno aggiunti come tutti i giochi old gen per allungarlo qui non ci sono perché non c'è bisogno il gioco è già lungo così o almeno ha la durata standard di dieci ore circa diecimila punti forza ottenuti molto bene ma ce n'era ancora uno giusto poi bravo bella anche l'inquadratura così proprio fiera alla gogo mi sei piaciuto star killer quasi super saian ok quindi saliamo se scorgiamo un altro olocro poi magari ditemelo ti sei perso l'olocron torna indietro che finché posso finché non fa un caricamento finché non c'è una cinematic eccolo lì noi torniamo indietro altrimenti poi li recupererò in privato sto tenendo il respiro ogni volta ma cristallo spada laser rosso instabile e questo mi incuriosisce perché noi abbiamo visto rosso rosso compresso e rosso instabile che rosso instabile dovrebbe essere quindi quello inclinato a modica e lorene cosa che sbagliai perché io dicevo quello complesso era più simile a quello vediamo com'è a questo punto e ha questa sorta di vortice proviamolo fa una sorta di vortice attorno l'altro era più impulsi quello compresso vedevi che forse il cristallo era trattenuto così tanto che aveva una sorta di emittitore di frequenza che continuava andare questo attorno a una sorta di energia che esula quasi il plasma molto figa mi piace fa un po dark saber forse o meglio la dark saber sapete che ha quella sorta di scariche di energie con il possessore in base al suo utilizzo in base all'odio questa è una sorta di precursore della dark saber anche perché qui vi dicevo c'è la dark saber vediamo vediamo poi quando troveremo la spada nera quanto sarà interessante la ricordo poco ma i tempi la bramai e la utilizzai molto sul finale si apre un panorama più bello nel frattempo quindi qui una baby gang c'è leader del gruppo gli altri due sono spariti cioè mi hanno visto sicuro di me e come ogni baby gang si è spenta dov'è leader basta alzare una mano e ho fatto vi stavo tra l'altro dicendo una constatazione mia ovvero abbiamo visto casa damparatus che giustamente aveva i suoi ma ok siete tipo in un bug siete invisibili andiamo di la viene di qua venga le leader si le rosso rosso leader ok sconfitto benissimo no lei è leader sciamano non avevo abbastanza forza adesso vi dico una mia constatazione ovvero mi stavo dicendo casa damparatus aveva i suoi minion si era creato le sue guardie di rottami che lui rianimava e si era fatto un piccolo esercito ora siamo su feluccia c'è shakti questi nativi sono addistrati ok quindi potenziati vediamo ecco il veleno che si copre anche questa un'animazione molto bella molto interessante ma abbiamo dei nativi addistrati da shakti anche qui addistrare nativi secondo me è arduo ok che era un però non parlano la sua lingua non so quanto potessero apprendere lei c'è riuscita ora capiamoci un po perché legends noi lo esaltiamo sempre è vero ci siamo affezionati anche a me piace questo gioco qui ne sono entusiasta però c'è un po di realismo un realismo molto grande perché casdamparatus con i suoi droidi costruiti gli animati shakti con il suo esercito di nativi è un po difficile che l'impero riuscisse a mantenere questa stabilità se ogni jedi di questo tipo aveva un potere così forte al suo servizio tant'è nel canon feluccia sarebbe già sotto presidio imperiale da mo da tanti anni qui invece non lo è perché per l'appunto come casdamparatus con i suoi guardiani teneva la discarica raxos prime qui shakti ha fatto lo stesso ma c'era ah no ho visto una vita abnorme mi son detto che c'è una creatura qui che vuole vuole mangiarci è arrivato un rancor che somigliano un pochettino questi a zanne non lo sono meno male tra l'altro una zanna così grande di rancor altro che quello che cavalca baba fett vada vada leader baby ganger è un vietnam questo praticamente feluccia al vietnam i cloni non so come facessero per questo che anche nel canon vi ricordo in biglum wars la campagna di feluccia dura tantissimo più stagioni perché la liberano poi tornano perché sono tornati separatisti è nel loro esterno è più vicino ai separatisti a un pianeta che effettivamente di importanza non ne ha tanta cosa c'è qui poi non c'è niente semplicemente era vicinissimo a una rotta importante quindi serviva perché così controllavi la rotta iperspaziale la sua importanza era quella quindi continuavano andare avanti indietro botta e risposta con aso katano che tra l'altro in una di queste missioni fa una cosa che non doveva fare si sente molto sicura di sé molto superba quindi poi viene punita dall'ordine mandata agli archivi con yokastanu tra un po' mi mandano dritto in ospedale se continuo così quindi scossiamoli c'ho il taser praticamente il taser contro il baby gang ne colpisci uno i fulmini tutti non mi piacciono molto come design però mi ricordano un po' i rodiani che abbiamo già visto con questo lavevano il braccio qui hanno un'arma molto simile a quella degli walkie già nel prologo e alla fine hanno una maschera in faccia hanno riutilizzato in modo abbastanza intelligente comunque diciamo dei minions sono sempre quelli hanno cambiato dei piccoli dettagli ci sta per l'anno in cui è uscito il gioco ma io credo che siano infiniti questi continuo a vederli apparire quindi me la giro un po' dove posso andare perché qui evidentemente no e poi proseguo ok di qui si va avanti non c'è nient'altro holocron nascosti bene nascosti male no di cui sono arrivato ma questo è segreto è segreto eccolo qui holocron nascosto bene cristallo spada laser dorato compresso non mi piaceva molto il dorato se non ricordo male perché il mio occhio di daltonico non notava la differenza dal verde o dal giallo quindi a sto punto ci accontentiamo del rosso instabile più da sit più da persona che vuole fare del male a questi nativi e andiamo proseguiamo lungo la nostra strada aspetta ma si può salire di qui o no sembrava di sì e invece mi hanno fregato va bene non vedo holocron e quindi a questo punto proseguiamo mi sbarra la strada e io mi ne libero di solito apro le porte con la forza poi sbatto loro da una parte all'altra per passare attraverso junk benvenuto ciao a te grazie mille per essere qui con tutti gli altri abbiamo avuto dei problemi all'inizio ma grazie a endernick e framorro li abbiamo risolti problemi audio il microfono mi sta abbandonando ragazzi eccolo qui un altro holocron sembrava una luce naturale che arrivava da sopra e forse lo era intelligenti perché effettivamente si mimetizzava grazie con l'entrata quella luce che filtrava dalla grotta e stavo dicendo però appunto del microfono che forse mi sta lasciando poi proverò vedere nel montaggio all'inizio a farmi un'idea del problema armature di cloni o stormtroopers di cloni e infatti è ancora la campagna che vi dicevo prima delle guerre dei cloni di the clone wars io però questa cosa che mi appaiano perché è apparso alle spalle mi dà un po fastidio mi è sempre dato fastidio in tutti i giochi e qui ancora di più soprattutto non è un picchiaduro con un po mix questo un mix tra picchiaduro mi sta platform eccetera eccetera no volevo la l'ortigno cos'è che ho tirato tirato un'imprecazione uno sciamano questo andate dallo sciamano baby ganger vedete è apparso sotto di me apparso mi dà fastidio questa cosa mentre junk dice che i problemi audio sono dati dall'impero è l'imperatore sta provando molto sia nel nel live che nella vita in generale a mettere i bastoni tra le ruote evidentemente la forza è troppo potente in me come vedete poi mi appare dietro mentre mi fermo un attimo a salutarvi e ciao ricchi poletto grazie mille per essere qui l'avevo visto proxy grazie mille però mi fa piacere perché ogni volta che vi dico qualcosa arriva proxy che il computer giustamente ve lo dice ad esempio questo dovrebbe essere l'ingranaggio di uno dei camminatori delle guerre dei cloni quindi la piastra per così dire del piede e l'avevo notato dall'armatura eccetera ve lo stavo dicendo è arrivato due confermarlo quindi quando ci sono queste cose vuol dire che i dettagli di gioco sono grandiosi e vuol dire che io meno male ho quella piccola consapevolezza che mi sono meritato poi e sul web quindi il vostro affetto raggiungi l'antico abisso e lo raggiungiamo mi piace questo nome ma ecco che mi piace di più che bello però di questo mi spara no però di questo colore bellissimo e quanto lo cavalcare in stile boba fett l'unica cosa che mi è piaciuta poi dico lo spin off tralasciando poi va bene la sequenza del mandaloriano che quando entra in scena mandaloriano in boba fett credo che sia una delle entrate in scena più belle mai viste però cavalcare il rancor un'altra di quelle figate secondo me che un fan voleva vedere che ha visto andiamo prima prendere l'holocron e magari mi guardo attorno che io li trovo sempre tardi se vediamo un holocron sit per un potenziamento così affronto poi come si deve questa bestia tra l'altro io nel montaggio scorso sentivo molto i miei tasti che a molti non da un fastidio effettivamente da un fastidio a me perché poi sono preciso quindi con l'audio proprio una cosa che mi dà fastidio non avere il totale controllo devo avere il controllo e quindi è fastidioso per me però infatti per coprire un po i tasti volevo alzare i rumori magari della spada laser senza che mi coprano la voce li ho alzati di due tacche se mi dite che secondo voi si possono alzare ancora i colpi io di altri due li alzerei però non ho mai il feedback diretto e indiretta della mia voce rispetto a come si sente e attacchiamo il rancor in un quick time events lo sta domando ma non lo vuole domare lo vuole proprio ammazzare schiacciandolo a terra con l'onda d'urto ferendolo a un occhio brutale star killer e facendo un fulmine di forza che manco palpatine riuscirebbe uno su quattro mentre lui è uscito dal ventre del rancor che poi è scomparso guerriero felusiano ti ho salvato la vita cioè nella sua pancia ti ho liberato è così che mi ripaghi con questa moneta male non mi faccio mai amici star killer è solo ovunque vada nemici e poi ovunque proprio c'erano anche gli imperiali all'inizio dovevamo uccidere sia gli imperiali che i ribelli di rancor da d'artrevan 199.805 è un cavaliere jedi buongiorno quanti ricordi di questo gioco o anche il romanzo d'artrevan tienilo stretto il romanzo innanzitutto grazie per essere qui prendi una sedia accomodati adesso dedico questa brutale uccisione a te al lord sit che sei e ti dico tienilo il romanzo mi raccomando perché fuori stampa non so se lo ristamperanno mai io stesso non l'ho più o almeno non lo trovo più perché non è tra quelli che ho venduto proprio l'ho perso però avrei voglia di rileggerlo c'erano molte informazioni interessanti e quindi tienilo stretto perché fa parte della tua collezione è un pezzo raro e per te d'artrevan in onora del sit che mi ha preceduto che ha preceduto star killer assassino sit che lo diventerà ma questo sciamano evidentemente ha preso le tecniche antiche che poi è addestrato da shakti quindi da una jedi sembra che usino tecniche del lato scuro sono rossi fanno scudi di forza che non mi sembrano molto lato chiaro ma va bene particolari vero che feluccia magari un po con queste creature come il rancor a un pianeta brutale condivido però mi sembrano un tantinello oscuri e mi vogliono ammazzare quindi sono sicuramente oscuri anche perché io sono qui per shakti e basta loro la stanno proteggendo andando al massacro e facendomi perdere tempo perché è vero che questo gioco come vedete si basa sul gameplay parlo next gen quindi computer in questo caso play 3 xbox 360 per console quando uscì però i gameplay ti diverte continuano ad arrivare abbiamo anche notato che sono praticamente infiniti in alcune sezioni appaiono alle spalle appaiono dai ventri del rancor appaiono ovunque ti attaccano giusto per farti perdere tempo il gameplay su play 2 su wii forse nintendo ds era ovviamente più odioso perché non era così frenetico ma soprattutto fluido quindi erano più brevi c'era una sezione ne uccidevi mettiamo 10 ok passi al prossimo e quindi cosa c'era una scena una scena aggiunta vi dicevo una cinematic di storia perché farti vedere sempre la scenetta che gli hai battuti ok proseguiamo andiamo avanti era noioso e quindi ai tempi si diversificava ci cercava di farlo ma soprattutto perché il più grande passaggio che c'è stato tra old gen play 2 a next gen fu enorme non è stato così grande ad esempio poi tra play 3 play 4 quindi i giochi uscivano sì ma il cambiamento era più per lo più di grafica poi la storia rimaneva uguale questo fu uno degli ultimi giochi a lui che li richiama con con il corno il corno di gondor sta chiamando come boromir e arrivano i piccoli hobbit della baby gang ad attaccarmi questo fu uno degli ultimi giochi per l'appunto a cambiare così tanto ma perché ai tempi tra il passaggio old gen e next gen si usava non c'è più bisogno ora i giochi riescono uscire quello che cambia è soltanto la grafica però il gameplay rimane piuttosto uguale piuttosto fluido diciamo energia limitata perché proprio qui abbiamo un altro rancor 10.000 punti forza che magari ora spendiamo ho visto uno sulla parete un altro sulla parete se ne vanno giustamente mi vedono che sono tipo super mario con la stella potenziato meglio per un attimo dicono meglio che ci facciamo i fatti nostri e poi quando perso l'energia infinite mi attaccano devo trovare un nome a questa bolla perché vabbè i fulmini di forza per ora sono fulmini mi piace questa è la kamehameha l'onda energetica onda energetica mi piace nome approvato la bolla di sapone mi serve un nome per quando la uso a mo' di manga di anime che sempre gridavano il nome di qualche tecnica speciale alla a 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